27 dicembre 1923 muore alexandre gustave fell ingegnere specializzato in strutture metalliche costruisce a parigi il primo edificio in ferro e vetro il magasin au bon marché e l'anno successivo nel 1877 il primo dei suoi grandi ponti in ferro il ponte maria pia di oporto diviene famoso quando nel 1889 costruisce la torre diventata simbolo di parigi nota come torre e fell per l'esposizione universale la torre con i suoi 324 metri di altezza e 10.000 tonnellate di peso è l'espressione più completa della tecnica di fell che mira a ottenere contemporaneamente alte qualità di flessibilità e resistenza con un minimo peso per l'esposizione